Operazione alto impatto della Guardia di Finanza negli ultimi giorni nel territorio di Torre, annunziata decisa dalla Prefettura di Napoli. Un piano straordinario di controllo che vede un bilancio di oltre 600 tra persone e mezzi controllati, 45 sanzioni per droga, armi, violazioni al codice della strada e abusivismo edilizio.